È la patria dei motori, la terra dei campioni. Misano è la culla della civiltà motociclistica. Tutti pronti a scattare a 220 all'ora con il comito che tocca l'asfalto. Il Moto Mondiale torna in Italia con Moto3, Moto2 e MotoGP. Live! Versaglio acquisito! Gran premio team di San Marino e della Riviera di Rimini. Sabato 12 settembre alle 12 le qualifiche e domenica 13 settembre alle 10.30 le gare in diretta su Cielo.